a farlo vedere cioè muovere un po' si con il capello così lo fa vedere così a sinistra in tutta la mia bruttezza devo girare girare oh it's beautiful ancora? si devo girare mm-hmm eh eh Charmant? no Padua? si chissà quante risate si faranno le persone che diranno diranno ma quella dai numeri oh yeah giro mhm non so se li metto giusti ma da più o meno questo dove l'ho acquistato? sempre a Biella e sempre in mia Italia però non ricordo più dove sempre da Cavicchioli si da Cavicchioli un negozio in mia Italia e purtroppo è chiuso e quindi non mi posso bisognere lì posso girare? mhm 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 mhm